guardate ragazze la mia padroncina mi ha comprato una piastra per i capelli voglio provarla come si spegne meno male che aveva poca batteria quen sei la migliore ricordatevi che domani abbiamo il nostro primo incontro dovremo essere super carine ok non ho abbastanza emoticon per mostrarvi quanto sia felice di vedervi finalmente ciao siamo cagnoline molto cool amiamo le acconciature insieme vivremo mille avventure se stiamo insieme noi non ci fermiamo lotta paura inizia l'avventura un po' di questo un po' di quello questo slime è il top no 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 ed ora che faccio disastro sono di nuovo in ritardo buongiorno zio sono qui ciao zio fabio scusa sono inciampata e non ti preoccupare l'importante è che tu venga ad aiutarmi sei la mia nipote preferita sono la tua unica nipote davvero eccomi super salto cool e sono arrivata prima ehi ciao taylor sono gwen che bei capelli hai grazie sei molto carina amiche sto arrivando scusate non riuscivo a trovare un wifi invece di chiamarti lady gg dovremmo chiamarti lady wifi ciao ehi ciao a tutti belle la mia umana ha bruciacchiato queste cupcake ma penso si possono comunque mangiare grazie sono molto buoni mi fa piacere finalmente non vedevo l'ora di conoscervi tutte amiche aggiungiamo shampoo di uova di quaglia sapone fatto in cosa due fette di mortadella secondo la ricetta questo shampoo fatto in casa lava qualsiasi cosa super disastro ti ho chiamato prima incredibile guardate che onda e che riflessi chi sarà il suo parrucchiere ne ho bisogno veniva da quella parte cosa deve esserci un'altra entrata venite ma non c'è nulla qui solo ciamprusaglie e oggetti da parrucchiare super fuori moda non c'è nulla di interessante taylor tutto bene sì è fantastico dovete provarlo giuliette taylor alexia lady gigi guam ehi ehi ciao figo il tuo cappellino ciao sì non è male ma il tuo look mi piace di più non è opera mia è stato shhh è un segreto beh ci ha acconciato un amico che amico un amico fantastico boom la cosa più bella che mi sia mai capitata non sai quanto sia talentuoso e bravo il nostro amico con il pettine nessuno è come lui guarda come ci ha pettinate ci sì siamo un gruppo di amiche te le presento lei e taylor giuliette alexia lady gigi e beh io io sono gue ciao sono nila cosa hai ho avuto un piccolo incidente con i miei capelli non sarà grave stamattina la piastra stava per mangiarmi i capelli sei già così carina che non conta come hai i capelli coraggio via il cappello che disastro e ora cosa faccio non devi mai vergognarti di nulla sei una cagnolina straordinaria a prescindere dall'aspetto ma a questo problema c'è un unico rimedio ma è sicuro sì lo è non preoccuparti non sono molto convinta è incredibile wow c'è di tutto qui zona acconciature zona lavaggio sala d'attesa e questo è il glitterizzatore ciao sono fabia sei tornata presto Gwen abbiamo un piccolo problema ok allora è meglio che chiami lo zio Fabio bene bene che cosa abbiamo qui è che ho avuto un incidente con slime non aggiungere altro ho visto di tutto attaccato ai capelli salsa al curry colla gelato al cioccolato una volta sono arrivate due cagnoline appiccicate per i capelli e sono uscite da qui contente e separate al lavaggio capelli vedrai come mi sistemo non preoccuparti non preoccuparti Fabio è un genio ehi france style ehi guardate fabio che fantastica agonciatura ha fatto alla nostra nuova amica Mila, sei bellissima! Benvenuta nel gruppo! Look da paura! Inizia l'avventura! Noi siamo le Big Pets! I love Big Pets! Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Big Pets! Big Pets! Siamo le Big Pets! Se siamo insieme, noi non ci fermiamo! Luzza, paura, inizia l'avventura! I love Big Pets! Mila! Ancora slime? È che non mi convince! Mi manca qualcosa! Che ne dite se aggiungessimo un po' di glitter? Secondo me verrà perfetto! Vado a cercarli! Voilà! Ma cos'è tutto questo? Mamma mia! Sembra brillantina! Facciamo una prova e vediamo come... No! E dai! Mi hai spaventato! Ma questo non si mette sui capelli, zio! Perché no? Non è brillantina! Brillantina? È slime! Eh? Slime! Slime! Ah, già, certo! Smile! No, smile! Slime! Mi piace farlo! Ma credo che al mio manchi un po' di glitter! Adesso sì che è finito! Guarda che figata! Wow, è fantastico! Veramente bello! Ma... Cosa ce ne facciamo? Ci giochiamo! Sei sicura... Che non vada sui capelli? Ma tu... L'hai visto l'ultimo episodio delle V-Pets? Quale? Sì! V-Pets Club! È il primo della nostra serie! Ma certo che l'ho visto! L'ho appena guardato dal cellulare! Inoltre, sono iscritto al canale! A proposito, raccomando a tutti voi di iscrivervi al nostro canale Kitoons e seguirci su Instagram e TikTok! Molto bene! Allora se lo hai visto, sai cosa è successo a Nila con lo slime? Ah, certo! Che le si è appiccicato ai capelli! Esatto! Ah, ma che bella con il cappellino! Sì, però il cappellino non lo porta perché le piace, ma perché, ancora una volta, ha lo slime sui capelli! Sono tutti i capelli! Non preoccuparti, questo lo risolvo io in un secondo! Vedrai! Credo che dovrò aiutarti! Sì, aiutami! Non si taglia! No, è incollato! Non riesco! Ma guarda i suoi capelli! Sono tutti pieni di slime! Sì, è un dramma! Però tutto nella vita ha una soluzione! Ci conviene, innanzitutto, andare alla zona lavaggio! Buona idea! Andiamo di là! Quanto appiccica! Però lo slime sta andando via! Perché le stai lavando i capelli con il miglior shampoo del mondo di Fabio e Fabia? Con vaniglia del Madagascar e bacche del Kilimanjaro! Una meraviglia, in pratica! Wow! Sono tornati perfetti! Mi piace! Adesso dobbiamo solo farle un bel look! Vediamo, lasciami pensare! Credo che a Mila piaccia molto rilassarsi! È la nostra Vip Pet più tranquilla! Le piace molto lo yoga! Ho un'idea! Le faremo il look Friends Style! Sarà stupenda! Vedrai! Attenti Vip Pet's Friends! Per questo look avremo bisogno Di un pettine Vip Pet's Due elastici Una molletta Un diadema Un collare E il glitter Ora che abbiamo tutto, cominciamo l'acconciatura! Per primo, prendiamo il pettine E pettiniamola un po' per sciogliere i nodi Poi continuiamo prendendo una ciocca dalla parte anteriore E dividendola in tre ciuffi Passiamo ora il ciuffo di sinistra al centro E continuiamo facendo passare anche il ciuffo destro nel centro Ripetiamo questi movimenti più volte E otterremo una treccia perfetta! Ed ora facciamo lo stesso nell'altro lato Poi leghiamo con un elastico perché non si sciolgano E adesso Nascondiamo la treccia sotto i capelli E mettiamo una bella molletta Che ci aiuterà a tenere fermo l'acconciatura Ed ora con la mano Giriamo un po' la ciocca Per darle una forma ondulata Adesso le mettiamo il suo diadema E terminiamo il look con il suo collare Ed ora Manca solo il tocco magico Il glitterizzatore Wow! Adesso sì che potrò andare a qualsiasi festa Credo che aggiungendogli un po' di acqua Posso ottenere una gelatina stupenda No, 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 no Non lo fare Credo che lavorandola un po' Otterrò qualcosa di favoloso E voi? Che ne pensate? Cosa vuoi che pensino? Che è una pazzia! Con lo slime ci puoi giocare e basta Va bene Se lo dici tu Ma ascoltami Devi postare il look di Nila su Instagram Subito Alla prossima! V-Pets Friends Che sarà molto presto Non sta paura Inizia l'avventura Alla V-Pets